L'inaugurazione dell'anno accademico della scuola ufficiale è per l'arma dei carabinieri tradizionalmente l'occasione per fare un punto di situazione su dove è l'arma, dove sta andando avanti alle autorità massime del governo, alle istituzioni. Oggi la presenza del Presidente del Consiglio è stata particolarmente importante insieme al Ministro della Difesa e al Ministro dell'Interno. Avete sentito, è un'istituzione viva, è un'istituzione che lavora giorno per giorno, non solo nell'attività istituzionale che fanno i reparti sul territorio a cominciare dalle stazioni, che sono sempre la nostra grande forza, ma anche il lavoro organizzativo, è un lavoro che prosegue sempre, giorno per giorno, si porta avanti, in particolare in periodi come questi in cui stiamo vivendo le prime settimane di una riforma veramente importante che segna un punto significativo nella storia delle competenze, delle attribuzioni e della composizione del personale dell'arma dei carabinieri.